Per Pesaro, capitale della cultura, abbiamo pensato una linea caratterizzata da ingredienti che valorizzassero il nostro territorio. Sono tutti ingredienti naturali che raccontano una storia e che raccontano la bellezza dei nostri luoghi. Abbiamo scelto per ogni prodotto un ingrediente caratterizzante, abbiamo scelto la ginestra che racconta la bellezza delle nostre colline, abbiamo scelto l'uva rossa ottenuta da una collaborazione con l'azienda Terra Cruda di Pergola, un ingrediente fenomenale nei cosmetici ricchi di antiossidanti e proprietà sia per la pelle che per i capelli. Abbiamo scelto l'olio extravergine di oliva di cartoceto e il guado. Il guado è un'erba tintoria tipica del Monte Feltro, che è stata usata da secoli per tingere tessuti, dipinti, che quindi affonda proprio le radici nella storia dei nostri territori. Quindi sono cosmetici che ci raccontano e che valorizzano il bello del nostro territorio. Nasce nel 2007 la saponaria da un'idea di sostenibilità e da un'idea di autoproduzione. Ci piace pensare che i prodotti non nascono sui scaffali dei supermercati, ma nascono da una passione, da un'idea di voler fare un qualche cosa di diverso, fondamentalmente che non c'era al tempo, quando siamo partiti. L'etica del lavoro, rispetto della natura, sono stati da sempre, da subito, dei valori fondanti della saponaria e in questi 15-16 anni abbiamo sempre mantenuto questi valori come base dei nostri prodotti. Venerdì 2 febbraio, a partire dalle 5.30, nel nostro laboratorio faremo un brindisi inaugurale per presentare questi prodotti. Ci sarà la possibilità di provare i cosmetici sulla propria pelle, ci sarà la possibilità di degustare gli ingredienti con cui sono fatti, il vino, l'olio e di fare un brindisi insieme. Ci sarà anche la possibilità di vedere dove nascono questi prodotti con una visita guidata al nostro laboratorio. Quindi siete tutti invitati a questo momento celebrativo. I prodotti Pesaro Cultura 2024 sono disponibili nel nostro spazio aziendale, qui alla saponaria, presso la chiusa di Ginestretto di Pesaro. Sono disponibili sul nostro sito internet, lasaponaria.it, dove troverete pubblicata anche la lista di tutti i punti vendita di Pesaro e italiani, dove è disponibile la linea.